Per meglio rispondere alle aspettative dei turisti che affollano le città italiane e toscane, la Confindustria Alberghi ha siglato un accordo con Unicredit con l'idea di creare un fondo ad hoc per finanziare le ristrutturazioni e le riqualificazioni degli hotel del paese. Un accordo nazionale con cui verrà creato un plafond da 300 milioni di euro da ripartire poi sul territorio a seconda delle esigenze. Questi incontri facciamo con gli operatori e con gli albergatori determinerà la quantità degli alberghi che potranno usufruire di questo accordo. È un accordo interessante in quanto l'investimento avrà una durata fino a 22 anni. Una boccata d'ossigeno importante per un settore in sofferenza creditizia. Il settore turistico rappresenta un volano molto molto importante per l'economia italiana e per l'economia toscana più in particolare. Ha un valore propulsivo che può trasmettere degli effetti sinergici anche per altri settori. Per accedere a questo fondo gli albergatori dovranno presentare la richiesta attraverso l'associazione Confindustriale indicando il tipo di intervento che si vuole finanziare, il numero di camere dell'albergo, le presenze medie e i servizi offerti. Sarà poi l'associazione di categoria a girare la richiesta alla banca per l'approvazione del prestito che non potrà superare i 3 milioni di euro per volta.